Lutto nel mondo del giornalismo, morto per coronavirus, il giornalista e segretario provinciale della sostampa Gianni Molè era ricoverato da qualche giorno in rianimazione a Vittoria. Ancora a protesta da parte dei commercianti penalizzati dalle restrizioni del Premier Conti, oggi a scendere in piazza accanto a Confcommercio i titolari di attività commerciali di Ragusa. A che rinnaziona l'Istituto Principe Grimaldi di Modica, dove cybercriminali hanno violato il sistema di sicurezza cancellando il database, poi anche la richiesta di riscatto. Minacce, molestie telefoniche e anche un'autovettura data alle fiamme da un ex marito violento a Ragusa, l'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia a danni di figli e l'ex moglie. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di DG 74. Lo avete appena sentito dai titoli. Apriamo il telegiornale con una notizia che non avremmo mai pensato di dover dare. Morto infatti per coronavirus, il giornalista e segretario provinciale della sostampa Gianni Molè era ricoverato da qualche giorno nel reparto di rianimazione nel Guzzardi di Vittoria e le sue condizioni si sono aggravate nel giro di poche ore. Alla famiglia tutta, quindi le più sentite condoglianze da parte della redazione di Canale 74. Sentite. Una pesante e impensabile perdita nel mondo del giornalismo locale e siciliano. Una perdita per chi lo conosceva, per chi ha sostenuto con lui le varie battaglie sindacali per l'ente e provincia dove per anni è stata detto stampa. E' morto per coronavirus il giornalista e segretario della sostampa Iplea Gianni Molè di 59 anni. Le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate negli ultimi giorni quando Molè è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Guzzardi di Vittoria. Giornalista, capo ufficio stampa alla provincia regionale di Ragusa, segretario della sostampa Ragusa, Gianni aveva accusato i primi sintomi Covid già 12 giorni fa. Lunedì scorso il ricovero in ospedale a Vittoria dove ieri a mezzogiorno le sue condizioni di salute sono precipitate. Gianni Molè è stato un punto di riferimento per la stampa in provincia di Ragusa e non solo, anche per l'atteggiamento paterno con cui ha fatto crescere una generazione di giornalisti più giovani che con lui hanno trovato un consigliere e un termine di confronto, anche dialettico. Un uomo di sport, innamorato del proprio lavoro, nella sua vittoria ha incarnato un profilo alto nell'interpretazione della professione giornalistica. E' stato addito stampa al comune di Vittoria e successivamente si era trasferito alla provincia per l'incarico di capo ufficio stampa e poi di capo di gabinetto. Di recente e con grande sforzo aveva operato per riprendere le pubblicazioni del magazine della provincia con l'obiettivo di creare un canale diretto tra l'istituzione e i cittadini. Un uomo spesso critico con la categoria dei giornalisti, molte volte divisi tra loro e proprio per questo aveva accettato il difficile ruolo di segretario provinciale della sua stampa con l'obiettivo in buona parte riuscito di creare aggregazione. Molè lascia la moglie e due figlie. E come detto già in apertura alla famiglia, alle figlie, alla moglie, a tutti quelli che come noi conoscevano Gianni Molè, vanno le più sentite, condoglianze da parte di tutta, veramente tutta la redazione di Canale 74. Ancora proteste da parte dei commercianti penalizzati dalle restrizioni del Premier Conte oggi a scendere in piazza accanto a Confcommercio i titolari di attività commerciali di Ragusa. No alla chiusura generalizzata. Questo è il tema della manifestazione promossa da Confcommercio Provinciale Ragusa, questa mattina alle 9.30 a piazza Matteotti Ragusa. I provvedimenti del Governo nazionale stanno decretando il fallimento di molte delle nostre imprese, dichiara il Presidente Gianluca Manenti. Ci stanno sottraendo per decreto il nostro lavoro, la nostra cultura e la nostra fonte di reddito. Ecco perché stamattina abbiamo chiesto con forza e ma in maniera pacifica che la regione siciliana faccia valere la propria autonomia legislativa e modifiche il DPCM con chiusure mirate. Provvedimenti basati su evidenze scientifiche e dati sanitari epidemiologici. La situazione è molto delicata e i comparti colpiti, direttamente e indirettamente dal semi-lockdown rischiano di non potersi riprendere più. Intanto il Presidente di Ancara, Gusa Rosa Anna Paolino, sottolinea come a seguito delle misure contenute nel nuovo DPCM del lunedì scorso in vigore, il Governo ha annunciato che ci saranno interventi a sostegno dei settori economici a rischio e che le risorse saranno elargite e gli interessi in tempi rapidi entro la metà del mese di novembre. Il problema però è che molte imprese e molti lavoratori non hanno ancora ricevuto i sostegni promessi in occasione del lockdown di marzo. L'esperienza dei mesi scorsi, continua Paolino, ci ha insegnato che al di là delle annunce e delle buone intenzioni, il concetto di immediatezza può essere molto relativo. Di fronte ad una situazione come questa, il Governo non può non intervenire. Chiediamo risposte certe. A che rinazione all'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica? I gnoti cyberinformatici infatti avrebbero preso di mire il database scolastico, rubando tutti i dati custoditi al suo interno. subito dopo avrebbero anche chiesto un lauto riscatto al dirigente che però ha sporto denuncia. Sentite. Forse una bravata da parte di qualche alunno, forse qualcosa di più serio, ma attualmente tutti i files contenuti negli hard disk sono al vaglio degli inquirenti che in queste ore stanno controllando eventuali tracce per risalire a chi, nei giorni scorsi, è riuscito a introdursi nel sistema informatico dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica. Si tratterebbe di sedicenti hackers, ovvero cybercriminali che approfittando di falle nel sistema di sicurezza riescono a intercettare dati sensibili anche a distanza attraverso la rete internet. Tali hackers, non si esclude che siano più di uno, avrebbero quindi violato le difese del sistema informatico dell'Istituto Scolastico, rubando tutti i dati custoditi nel database, documenti virtuali con dati sensibili appartenenti alla dirigenza scolastica. In sostanza, gli hackers hanno azzerato tutto e addirittura hanno inviato una mail alla dirigenza scolastica chiedendo un riscatto di qualche decina di migliaia di euro per restituire dei dati sottratti illegalmente. Una richiesta che il dirigente scolastico e i suoi collaboratori hanno rigettato, presentando una circostanziata denuncia alle forze dell'ordine. All'Istituto Scolastico di Piazzale degli Oleandri, nel frattempo, il personale addetto sta tentando di recuperare tutti i falli sottratti rubati dagli hackers. E ancora cronaca, minacce, molestie telefoniche, anche un'autovettura data alle fiamme da un ex marito violento. A Ragusa l'ennesimo caso di maltrattamento in famiglia, danni di figlia ed ex moglie, a riportare la calma all'intervento dei carabinieri che ha arrestato l'ex marito violento. La Polizia di Stato e l'arma dei carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 52enne per maltrattamenti in famiglia. L'arresto, disposto in dato di erna dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta del PM titolare delle indagini, è scaturito a seguito delle innumerevoli denunce e querele presentate dalla ex moglie e danni dell'ex marito. In base alla puntigliosa attività svolta, sono state ricostruite le plurime condotte delittuose subite dalla ex coniuge, consistite in minacce, molestie telefoniche, danneggiamenti alle proprie autovetture e pedinamenti che hanno procurato alla donna sofferenze, privazioni ed umiliazioni. Inoltre, nel mese di settembre, l'autovettura della donna veniva seriamente danneggiata da un attentato incendiario. A tali condotte si sono aggiunte nell'ultimo periodo gli atteggiamenti minacciosi anche nei confronti della figlia maggiore, che, esasperata dai continui comportamenti molesti del padre e fiduciosa delle istituzioni, non ha esitato a rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare le condotte del padre. Diverse volte, infatti, la giovane donna si è vista costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine a seguito dei continui tallonamenti del padre. La ricostruzione del fatto criminoso, dopo l'articolata attività di indagine anche di natura tecnica, ha consentito di individuare l'esecutore materiale di un atto intimidatorio nel cinquantenne ragusano che aveva incendiato l'automobile della ex moglie, ultimo atto di una serie di comportamenti persecutori a causa di un matrimonio finito male. L'attività condotta dalla squadra mobile e dalla stazione principale dell'arma dei carabinieri di Ragusa testimonia non solamente l'attenzione al contrasto di tutte le forme di violenza, in particolar modo quelle rivolte contro le donne e le categorie vulnerabili, ma costituisce la riprova della perfetta sinergia tra le forze dell'ordine che hanno operato sotto il sapiente coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa. E resta ancora incerta la data del voto per le prossime amministrative a Vittoria. Tre candidati su quattro sarebbero per il rinvio a tempi migliori dal punto di vista sanitario. Ieri in videoconferenza un incontro con l'assessore regionale Ruggero Razza e diversi appelli lanciati anche al prefetto. Sentite. Ancora nessuna certezza sulla data di chiamata alle urne a Vittoria. Secondo il governatore Musumeci non ci sarebbe attualmente una criticità epidemiologica tale da rinviare le date già fissate per il 22 e 23 novembre, anche se proprio oggi lo stesso Musumeci ascolterà gli esperti della sanità per riflettere maggiormente sul da farsi. Intanto la situazione sembra comunque critica al punto da far registrare il no al voto di tre candidati su quattro. A chiedere il rinvio sono Gurrieri, Salemi e Di Falco che preferirebbero posticipare le elezioni al rientro dall'emergenza sanitaria cittadina. Ieri mattina sia Gurrieri che Di Falco hanno scritto una lettera indirizzata al prefetto, Filippina Cocuzza, al fine di avviare delle determinazioni per poter immediatamente sospendere e rinviare le elezioni del 22 e 23 novembre nella città di Vittoria con contestuale sospensione di ogni attività elettorale in presenza. Il dato epidemiologico, si legge nella lettera di Salvatore Di Falco, continua ad aggravarsi ogni giorno di più. I dati sanitari e ospedalieri ci raccontano di emergenze, di pericolo e non c'è esperto in materia che non pronuncia un incremento di contagi e delle loro tragiche conseguenze. Provo una sensazione di vergogna, lo confesso, ad andare in giro tra la gente a fare promozione politica quando questa gente ha bene altre preoccupazioni. Da oggi fino al 22 novembre in città ci sarà uno sciame di almeno 500 persone tra sostenitori e candidati che andranno a distribuire a volantini, scambiare un sorriso, entrare nelle case altrui, insomma a svolgere la propria legittima attività di propaganda elettorale. Lettera analoga per il candidato Gurrieri che parla di un breve rinvio necessario alla salvaguardia della salute pubblica. Con questi contagi, afferma Gurrieri, con la paura che si respira, Vittoria non esprimerebbe un voto democratico. L'astensionismo, già significativo e in forte crescita, in occasione del più recente turno elettorale siciliano, presumibilmente sarebbe ancora più marcato con un sindaco eletto espressione di una parte ridotta del corpo elettorale a causa di un voto espresso in condizioni anomali. Ciò che soprattutto mi preoccupa, conclude Gurrieri, è il pericolo rappresentato da circa 350 candidati che da qui alla data delle elezioni sarebbero impegnati in giro a cercare il proprio consenso tra le persone, nelle case e nei luoghi di lavoro, come d'altra parte è necessario per la propria campagna elettorale. Nel pomeriggio di ieri, come è preannunciato dal candidato Salvo Salemi, si è svolta la videoconferenza voluta dall'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza alla presenza del direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquo, e dei candidati Salemi, di Falco e Gurrieri. Assente, seppur invitato, il candidato Aiello, si è discusso di sanità ed è stato esposto il quadro della situazione a vittoria con tutti i dubbi già sollevati in prefettura. Adesso resta da attendere una risposta che arriverà nei prossimi giorni quando si saprà se vittoria sarà chiamata al voto novembrino oppure no. Ancora rinvii per l'aeroporto Comisano Piola Torre. I voli in continuità territoriale previsti per domani sono stati rinviati invece al primo di dicembre ad annunciarlo questa mattina a Soaco dopo aver ricevuto la notizia di Alitalia a causa di prenotazioni pressoché annullate i dettagli nelle servizie. Non c'è pace per i voli in continuità territoriale che dovrebbero collegare l'aeroporto Comisano con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate. I voli sarebbero dovuti partire domani come già annunciato più volte nei precedenti servizi del nostro telegiornale ma se ieri è stato annunciato da Soaco un controordine all'8 novembre stamattina è arrivata la notizia di un altro rinvio l'ennesimo che affligge l'aeroporto Comisano. I voli in continuità territoriale da Comisano sono stati rinviati al primo dicembre. A deciderlo è stato l'Enac in seguito all'emergenza pandemica che ha fatto sì che sui voli vi fossero pochissime prenotazioni. Addirittura si vocifera di un solo passeggero prenotato su un volo all'Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti modificherà il periodo di affidamento del servizio da tre anni a due anni e undici mesi a partire dal primo dicembre. I rinvii sono dovuti in primo luogo all'emergenza sanitaria carrerente dell'economia e della burocrazia ma non solo. La compagnia ha presentato alle autorità competenti la necessità di posticipare l'avvio dei voli aggiudicati con bando di gara istitutivo degli oneri di servizio pubblico e si è avvalsa della facoltà di razionare i servizi a costa di prenotazioni pressoché nulle. Infatti come detto poc'anzi si vocifera di un solo volo prenotato con il rischio in futuro di fenomeni di no show ovvero l'abitudine di un operatore turistico del singolo viaggiatore di prenotare un volo senza poi curarsi di cancellare in tempo utile la prenotazione. Ricordiamo che i voli previsti in continuità territoriali coinvolgevano le tratte di Milano e Roma con due tratte per la capitale e una per il capoluogo Menechino. I voli sono state appaltate dall'Italia. Per Di Bernardo il particolarissimo periodo storico ha determinato la necessità di una riorganizzazione. Ci consentirà di rendere ancora più capillare l'informazione ai cittadini. E arriva il decreto ristori circa 26 mila euro alle scuole della provincia di Ragusa per attivare la didattica a distanza. Riferirlo alla Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Maria Lucia Lorefice. Sentite. La Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Maria Lucia Lorefice ha riferito che nel decreto ristori approvati in Consiglio dei Ministri sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata che permetteranno a stretto giro l'acquisto di oltre 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila strumenti per le connessioni. Questi fondi a spiegato saranno rapidamente disponibili nelle casse delle scuole e saranno dedicati alle studentesse e agli studenti meno benestanti. Inoltre prosegue la Presidente grazie a un decreto firmato dalla Ministra Giolina sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro per garantire la connessione e quindi la didattica digitale integrata a studenti e studenti che ne fossero ancora privi. A proposito di scuole e degli ultimi provvedimenti adottati interviene il deputato regionale Stefania Campo e dichiara Musumeci con la sua frettolosa ordinanza ha chiuso le scuole superiori per tutti non considerando la delicatezza di togliere preziosi ore di scuola in presenza ai nostri ragazzi diversamente abili. La circolare dell'assessore Laggalla e della protezione civile regionale non chiariscono anzi confondono le acque e non danno serenità ai dirigenti scolastici di poter attivare la didattica in presenza per questi studenti e le loro classi. Il presidente emette un'ordinanza apposita che risolva quest'ennesimo inconveniente che danno delle fasce di studenti che meritano più attenzione. Nel tentativo di mettere una pezza l'assessore Laggalla ha diramato una circolare che prova a chiarire ma di fatto lascia lo sbaraglio per operare nell'ambito del 25% del DPCM nazionale anche per rispondere ai bisogni educativi di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Le famiglie di questi studenti chiedono a gran voce di non essere abbandonate dalle istituzioni. Musumeci quindi non vaneggi di legge e leggine. Non serve una legge per mandare i ragazzi a scuola. Serve un'apposita ordinanza che consente ai dirigenti scolastici la giusta serenità per la scelta e la programmazione della didattica in presenza nella quota prevista del DPCM del 24 ottobre concludono le deputate del Movimento 5 Stelle. La circonvallazione di Ragusa Ibla potrebbe tornare a doppio senso di marcia già da domani su quanto si sta discutendo alla luce delle recenti polemiche sollevate soprattutto da commercianti e cittadini. Il primo novembre si concluderà il periodo di prova la circonvallazione potrebbe tornare a doppio senso e quando trapelato dalle mura di Palazzo dell'Aquila venendo incontro alle esigenze di residenti esercenti e turisti. Peppe Cassì ha annunciato miglioramenti per la viabilità al vaglio un sistema elettronico degli accessi sulle scelte di quanto fatto anni fa in Piazza Duomo ma realizzare questo ambizioso progetto richiederebbe un budget importante per l'acquisto di macchinari costosi ma anche autorizzazione ministeriale per cui è già stato avviato l'iter burocratico. I controlli elettronici renderanno più ostico l'ingresso della perla barocca ragusana ma allo stesso tempo renderebbe il traffico più scorrevole migliorando la qualità della vita di residenti e turisti. In questi mesi è stato effettuato un importante censimento per vedere chi è il diritto al pass al fine di stanare eventuali furbetti e si è scoperto che molti titolari di struttura alberghiere di Ragusa Ibla erano sprovviste del pass. L'idea dell'amministrazione Cassì è quella di consentire ai non residenti di raggiungere Ibla lasciando i veicoli in aree apposi attraverso l'allargamento della sede centrale della circonvallazione in modo da permettere la creazione di 140 posti auto mantenendo il doppio senso di circolazione. Al vaio anche una seconda possibilità che prevede l'individualizzazione di aree limitrofe Ibla da dibire a parcheggio e scambio in collaborazione con i privati. Il progetto è stato inserito nel piano spesa dei fondi della legge su Ibla 2019 per una cifra che si aggira sui 200.000 euro per l'assessore del centro storico Ciccio Barone è già stato avviato uno studio di fattibilità per i tempi di avviare lavori bisognerà attendere la decisione dell'aggiunta sul piano spesa. Bene, il telegiornale termina dunque qui a tutti voi grazie e buona fine settimana. a tutti i tempi